Avevano attestato falsamente di avere il requisito della disoccupazione per assumere a tempo indeterminato 41 dipendenti con le mansioni di operatori sociosanitari e operai, grazie a 1,7 milioni di euro di contributi pubblici POR Puglia 2007-2013, bando dote occupazionale, la metà dei quali già percepiti. Per questo sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza 840 mila euro nei confronti di società cooperative ONLUS con sedi in varie regioni italiane impegnate nell'assistenza domiciliare ad anziani. Tra i beni sequestrati ci sono disponibilità bancarie, ville, appartamenti e terreni nelle province di Bari, Foggia e L'Aquila, tre autovetture e tre motocicli. Un primo provvedimento di sequestro di urgenza dello stesso importo era stato eseguito nel dicembre scorso. Secondo le indagini delle Fiamme Gialle, i lavoratori in realtà erano dipendenti di un'altra società che faceva capo allo stesso gruppo e trasferiti formalmente alla cooperativa beneficiaria del contributo pubblico, al solo fine, spiega la Procura, di legittimitare la percezione della dote occupazionale. Otto le persone indagate con l'accusa di truffa aggravata.